Assolutamente nulla da dire, è una notizia appunto, credo che il Presidente Totti saprà far valere le sue ragioni. Come si può commentare un semplice flash di agenzie... La sciocca, non so, si è creata delle reazioni. Beh, mi dispiace, sinceramente, da un punto di vista personale politico mi dispiace, mi auguro che si tratti di qualche cosa che abbia comunque un suo fondamento e da cui certamente Giovanni Totti saprà difendersi come ha sempre fatto, sia politicamente sia... Mi potete dire dimissioni, Presidente? Allora, io sulle dimissioni ho sempre un'unica tesi. Le dimissioni sono una scelta personale, non c'è una norma che obblighi qualcuno a dimettersi, le sensibilità possono essere variegate, mi sembra che oggi a botta calda parlare di dimissioni è un po' strumentale.